Oggi mi piacerebbe parlare di un progetto che sto portando avanti da alcuni mesi con dei colleghi perché così chi ha voglia di darci un'occhiata mi può dare il suo parere. Partiamo da una premessa, gli italiani spendono sempre più ore online, guardando ad esempio le statistiche di Weird Social, il trend delle ore passate su internet in generale è un aumento e non c'è nulla che ci fa pensare che nei prossimi anni vi migliorerà. Anche la ricerca degli psicologi online mi sembra essere un aumento, non ho dati alla mano in questo momento, però vedendo la quantità di pubblicità che ci sono, il numero di portali che continuano a aumentare e pensando anche al fatto che l'APA, l'American Psychological Association, ha una sua pagina chiamata Psychologist Locator per trovare gli psicologi dell'APA, mi viene a pensare che questo trend è anche in crescita. Con il mio team volevamo allora fare una cosa simile, creare un portale per ricercare gli psicologi anche se ci siamo scontrati con un problema, ce ne sono già un sacco. Allora quello che abbiamo cercato di fare è creare un portale che si specializzasse su quello che noi facciamo, la terapia a seduta singola, così abbiamo creato OneSession.it. Il portale si differenzia proprio per una caratteristica, tutti gli psicologi presenti sono stati formati da noi in terapia a seduta singola. La persona arriva sul portale da un nostro articolo, un video, una ricerca su Google o altro e sceglie lo psicologo adatto a lui. Peraltro il contatto rimane privato perché una volta che la persona ha scelto il terapeuta le comunicazioni avverranno solo tra loro due. L'idea è quella di creare un portale dove le persone possano trovare degli psicologi, dei terapeuti che possano dargli delle risposte, delle soluzioni, delle strategie, dell'aiuto in generale, anche naturalmente non solo in una singola seduta. In realtà questo è solo il primo step di OneSession. Per le persone verranno attivate una serie di progetti, di idee per coinvolgerli maggiormente, dargli la possibilità di trovare più facilmente gli psicologi e per gli psicologi verranno creati una serie di servizi fatti apposta per accrescere la loro efficacia, la loro capacità di lavorare online, offline e in generale in maniera più efficace ed efficiente. È un progetto, siamo online da alcuni mesi, abbiamo superato la fase di test, ora siamo nelle parti iniziali. Mi farebbe veramente piacere se ti va di dargli un'occhiata in modo che ci dai i tuoi suggerimenti, le tue critiche, le tue opinioni su come funziona il servizio. Quindi se ti va di farci questo piacere vai su www.onesession.it, dai un'occhiata al sito e dacci la tua opinione.